Allora del Master in assoluto mi sono piaciute due cose. La prima è l'unione e la fusione delle competenze, dei background delle diverse persone perché siamo tutti diversi ed è meraviglioso poter ascoltare, poter imparare anche dall'esperienza e dal vissuto che già gli altri hanno. E poi l'altra cosa molto bella è che secondo me si abbatte quella parete di estrema professionalità che c'è tra la docenza e la componente degli studenti perché è quasi bello, è come vivere una dimensione quasi domestica.